ciao sono emmanuele gardossi siamo a lezione con su rocker tv oggi volevo raccontarvi di come mi sono innamorato di questo strumento fantastico che è il basso elettrico da ragazzino sono rimasto molto colpito dall'immagine che avevano gli easy top questi signori con la barba fino a metà petto li ho ascoltati però non non era ancora in grado di capire che cosa realmente facesse il basso grazie a mio fratello andrea chitarrista mi ha insegnato a splittare gli strumenti quindi ho imparato ad ascoltare solo il basso ovviamente non solo il basso perché da solo il basso non serve quando ho imparato a fare questo split mi si è aperto un mondo ho capito che queste note gravi questa questo puntello fondamentale della musica moderna elettrica era quello che volevo fare di fatti sono qui ancora adesso dopo un bel tot di anni a divertirmi a cercare di imparare a cercare di migliorarmi che penso sia un po la missione che ogni musicista deve avere migliorarsi migliorarsi anche in un contesto di una band quindi mettere al servizio della band le proprie capacità che insomma un po bisogna contenerle però ci si può anche lasciare andare con tranquillità e divertirsi con la band fermo restando il concetto fondamentale che si sta facendo musica d'insieme e quindi la cosa più importante è quello che viene fuori globalmente non è tanto la notina figa che fai o la posa che assumi su un palco ma è quello che suoni che sia una cosa sentita pensata studiata e che funzioni e aiuti la canzone questo secondo me è il lavoro del basso essere la fondamenta della costruzione della canzone ci vediamo a lezione con su rocker tv